ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi oggi siamo tornati sulla serie che conoscete benissimo ecco qua ragazzi dove eravamo rimasti abbiamo passato ragazzi la classifica senza neanche troppi problemi siamo arrivati primi con un balleggio con la spagna però lasciamo stare ragazzi arriva del momento di italia olanda e siamo prontissimi a giocare la partita tra italia e olanda vediamo la maglia che ci sta ragazzi e andiamo subito a buttarci in partita direi subito ecco qua vediamo like che si scalda siamo prontissimi per vincere questa partita ok ragazzi ci siamo partiamo subito con la gara iniziamo ragazzi siamo prontissimi avete capito ragazzi è il quarto di finale chi vince continua il torneo chi perde se ne va direttamente a casa ciao ragazzi neanche me lo dico a fare dobbiamo vincere ancora male c'è occhio perché l'olanda potrebbe attaccare infatti lo fa mamma mia grandissima prestazione occhio like si allunga troppo il pallone fa un guaio like gamer io mi butto però non riesco a prendere ragazzi purtroppo non riesco a fermarlo ecco qua e lo fermo passaggio avanti dove c'è fortes seguendo il pallone ci prova fortes sbaglio un tiro incredibile ragazzi non lo so che cosa abbiamo forse anche troppo come si dice abbiamo troppa agitazione addosso per questi quarti di finale è sempre una partita adesso dobbiamo vincere per forza abbiamo solo un risultato la vittoria uh c'era vicino per poco ragazzi guardatemi per poco guardate per pochissimo ha salito la travessa per pochissimo avete visto potete sbloccarmi ma non riesco a fermarmi occhio del light occhio del light dei obbio dei obbio lo devo fermarli un tocco per dei obbio entra decendo e gli porta via il pallone oh no ok scelto occhio oh no sta attaccando l'olanda dobbiamo fermarli ecco dei roti ecco dei roti recupera la palla ok perfetto palla lunga fermiamoli con la pancia ferma Varela attacca vedel light alza la testa si allunga il pallone troppo dai piedi e la palla purtroppo esce fuori ragazzi brutta situazione brutta 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 Occhio, palla Per il giocatore dell'Olanda Ecco qua Io con un intervento duro Prova il cross, anzi il tiro Pensavo che era un cross Prova il tiro, ma l'Olanda riesce a neutralizzarmi Ragazzi, ma cosa sto vivendo? Occhio, Wehrman Può attaccare Si smarca il giocatore dell'Italia 1-1 con Barella Si porta avanti Prova il tiro, bastone lo ferma Sport di nuovo incontro il piede dell'Italia Con me Io ci provo, vado avanti Provo a smarcarmi a tutti Sono davanti al partiere Prova il tiro Ed è gol Ed è gol Il primo gol della gara Lo faccio io, lo sblocco io Ce l'ho fatta, ho segnato Sono fortissimo ragazzi Sono partito in un bellissimo contropiede E ho fatto un gol da campione ragazzi Avete visto? Così Boom Eccomi Si Ho segnato Adesso si che ci siamo 1-0 Si giocherà 30-60 secondi Fermo 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 E ragazzi Finisce il primo tempo Già in vantaggio noi Nel primo tempo Ah che non ero in vantaggio Della partita contro l'Ungheria Finalmente ragazzi Siamo in vantaggio nel primo tempo Che contro la Spagna abbiamo pareggiato Con l'Ungheria Abbiamo vinto 6-0 mi pare Comunque per tanti risultati E contro l'Inghilterra abbiamo vinto A secondo tempo Occhio perché ci prova l'Olanda E io butto fuori la palla Da qua Ecco Like Like si allunga la palla Like Può andare sulla fascia Si allunga la palla Mi vede Alza la testa Prova il tiro Della giro Però Like Non Volevo segnare Ma non ce l'ha fatto Ok Ecco Like Like Prova Indecente il pallone È un meraviglia Passaggio lì indietro Disperato Ma la palla Non trova i giocatori dell'Italia Ma trova Der Rund Dell'Olanda Occhio all'Olanda Che riparte Barella Passaggio di Barella Per Like Gamer Che supera Provando a dibblare A cercare l'uno contro uno Ci prova da fuori Da fuori Ci ha provato E Like però Non trova la porta Nel frattempo L'Olanda Fa una Una sostituzione Ed è Caccia di punizione per noi Alza la mano Il portiere Nopert Para L'Olanda Di nuovo in contropiede Di Lorenzo Fanno L'avanzata Degli olandesi Di Marco Di Marco Prova Alla fascia Davanti Passa Ancora Prova a fermare Prova a fermare Prova All'avanzata Degli olandesi Di Marco La spazza Ancora il suo momento Nel momento di Like Passaggio di lato Ecco il trio Il trio D'agendo Ecco la Fortes Che smarca Che smarca Passaggio di nuovo Lui Ci prova Ed ecco il Tiki Taka Dell'Italia Ma soprattutto Del trio Di agendo Max Like E Fortes Grazie a un passaggio Incredibile Di Fortes Riusciamo a fare 2-0 E questa partita Sembra ormai Perduta Ragazzi Per l'Olanda Boom Che passaggio Incredibile Ragazzi Ogni partita Segna Chi vuole Ecco Fortes Occhio Si può smarcare Supera tutti Si marca tutti Però Un difensore Tanto astuto Lo ferma Occhio ancora lui Ci prova Ci prova Con un tiro a giro E anche lui Come l'ultimo Dei Gol Più belli Del mondo Arriva Fortes Con un tiro a giro Più bello del mondo E la palla Si infizza Nella rete Ho un tiro tecnico Da rompione Boom La palla è girata Di poco E segna 3-0 Per l'Italia E adesso ragazzi Voglio provare A fare una pazza Che tanto Però non si Non si avverrà Ecco qua Ok Occhio adesso Però Al Occhio Perché In questo momento Attacca lui Sweet Che si trova Nell'attacco Prova a smarcare Smarca Ci prova E segna pure lui Il primo gol di Sweet In questa carriera Il primo gol di Sweet Nel Nel mondiale Mini mondiale Diciamo ragazzi Mini torneo Il suo primo gol Contro l'Olanda Il 4-0 di Sweet Che ci regala Il passaggio Al torneo Con gli occhi chiusi Ragazzi Manca pochissimo Mangano un paio di minuti Per dire secondi Spazza via Sweet Ancora gli olandesi Che provano a fare Almeno un gol Ceva Forte sotto Smarcato Occhio Ancora Ragazzi Finisce Siamo Ufficialmente Alle semifinali Di questo torneo Questi qua ragazzi Sono i etni risultati La Francia vince Contro la Spagna Ecco qua ragazzi Vediamo Qual è la prossima partita Ragazzi Alle semifinali La prossima partita Sarà Repubblica cieca Italia ragazzi Ciao Nella prossima partita Questi qua Erano le fasi al gironi Questi qua Sono i quarti Che noi abbiamo vinto 4-0 Contro l'Olanda Ragazzi Nella prossima partita Vedrete Repubblica cieca Italia Ragazzi Nella prossima partita Le semifinali Ce la stiamo facendo Repubblica cieca Italia Da Max Ghiomeroffice È tutto Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao